Elogio con freno per il Guardavalle con brillantante perché il Siderno non aveva molte pedine da lucidare, se non quelle che ieri ci hanno messo tutto e di più per sopperire alle assenze. Somme tutte da tirare dunque, anche se i ragazzi di Galati hanno comunque trovato amalgama e ritmo sotto un caldo da non sottovalutare. E' saltato all'occhio il buon lavoro atletico insomma, ma in partita poi panico al diciottesimo. Rava raccoglie ciò che Ibanista smanaccia, Giuffrida replica di Tocco non avendo però i guantoni in dotazione. Piace poco il provvedimento ma è espulsione. Per il Guardavalle anche 1-0 sul rigore con la trasformazione di Criniti. 2-0 poi con Rava prendi tutto a raccogliere le respinte del portiere sidernese, su tiro dalla distanza ancora di Criniti. E poi Santiago Dorato Show al secondo tempo che sfida le migliori marche in morbidezza e appoggia in rete con pallonetto. Una rosa vasta, una rosa varia, una rosa che riesce davvero a creare la giusta mistura tra esperienza e gioventù. E certo c'è Ciccio Galati che adesso ha la sua idea di Guardavalle. Che corrisponde al Guardavalle di Roberto Care? Guarda, io da quando faccio il presidente o vicepresidente dico che ogni allenatore ha un'impronta sua per quanto riguarda la squadra di calcio. Noi ci trovavamo bene anche con Enzo Ritano e quindi adesso c'è Francesco Galati, è risaputo. Lui è bravo come allenatore, non è che lo scopro io. Si è portato all'ossatura del suo verato e quindi sa benissimo cosa vuole e che cosa deve fare. Va via un portiere veterano, arriva un altro portiere giovane, 2-92, proprio il suo modello. Ovvero spostare un over laddove in altro reparto possa servire di più. Lui ama giocare con i fuori quota, specialmente in porta per guadagnare sicuramente qualche uomo in più in alcune zone del campo. Però guardandolo ho visto che noi abbiamo una vasta rossa di fuori quota, tutti bravi. Quindi penso che a volte può anche giocare un fuori quota in più a discapito di qualche grande. Dipende dalle situazioni e dalle garanzie che gli dà in quel momento. Tira con un deficit offensivo effettivamente sposta comunque l'attenzione al cercare di vedere se effettivamente dal punto di vista atletico il Siderno è a gambe ci sia e se possano quadrare comunque gli altri reparti che poi lì ci sia per ora il problema lo si sa. Il problema c'è perché c'è Cine che è infortunato, Orlando dovrà rientrare fra qualche domenica e rientrerà perché il Siderno punta molto su Carlo Orlando. È un giocatore che non sto qui a discutere, a presentare. In più stiamo trattando un altro attaccante quindi io penso che ci sistemeremo per il campionato e siamo a posto. Però considerare effettivamente quel candido che laddove serve riesce col suo spirito dell'abnegazione davvero a fare quasi doppio ruolo va già bene per lo spirito Siderno? Sì, c'è il candido e poi spendere qualche parola anche per i nuovi arrivati che hanno debuttato oggi sia per Novello che Cambria. C'è ancora molto presto, la squadra si deve, va rodata, bisogna trovare l'amalgama giusta perché ancora è molto presto. Ci hanno iniziato da tre giorni a giocare insieme quindi secondo me vedremo delle belle, il Siderno secondo me farà bella figura in questo campionato.